Aspettiamo che il gioco si avvii per farvi vedere queste mod, queste due mod. Abbiamo installato una macchina chiamata Reminjitne, il nome della mod sostituita, della macchina precedente del gioco sostituita. Adesso crederemo avere una Bentley, e poi abbiamo messo pure un aereo da caccia, un caccia abbiamo messo, cambiato con Hydra. Adesso andiamo a vedere queste due, questa auto e questa bella, bella caccia. Ecco qua ragazzi, questo sono io, questo è CJ, ci troviamo nella mia casa, vedete che ho installato alcune mod, tipo questa bella, questa bella spararottatoro, poi vedete questa arma abbiamo, abbiamo tante cose fighe. Usciamo, scusate ragazzi il gioco non parte bene, lo so ragazzi, perché sto facendo il video, se no partiva bene. Adesso andiamo a prendere queste macchine, io ho l'apposito di menu, perché dopo se volete ditemi, se volete questo apposito di menu ditemelo che ve lo do. Allora, andiamo a prendere la macchina, credo che si chiamava Remingitn, R. Remingitn, che cazzo? Ecco qua, dovrebbe essere questa, no? Sì sì, perfetto, bella, è questa qua ragazzi, vedete? Eccola qua. E questa qua la macchina. Adesso vi farò vedere che parte, funziona molto bene, non vi sto piando per il... E che cazzo, scusate ragazzi? Il gioco non parte molto bene, perché sto facendo questo cazzo di video. Porca troia, mi sto incazzando. Allora faremo un'altra cosa ragazzi, più velocemente, per farvi vedere che questa macchina funziona. Allora, andremo a riprenderla. Dove cazzo era? Eccola qua, questa qua, ecco qua, e facciamo così. E siamo già subito, subito entrati. Adesso vi farò vedere che cammina la macchina. Vedete? Molto, molto sexy. È un po' sporca, non lo so. Non so perché ho messo questa macchina, potremmo mettere una pagani, però... Ho messo questa. Vedete che la macchina parte. C'è anche un turbo super, sarebbe questo. Porca troia, ragazzi. Non so se l'avete visto bene, io, cazzo, l'ho visto proprio bene. L'ho vista brutta. Minchia ragazzi, sto volando. Beh, questa qua è una mod che avevo messo in precedenza. Non mi piace tanto, quindi forse la tolgo. La macchina non è che mi piace tanto, però... La mod funziona, avete visto. Adesso andiamo a mettere, andiamo a vedere questo aereo. Questo caccia. Quindi, sette. E... Planets. Hydra. Ecco qua, bellissimo. Questo è il nostro bel... Oh, cazzo, il treno! Porca troia, ragazzi, il treno, il treno. Oddio. Perché mi sono messo qua? A far vedere questo cazzo di aereo? Volevo trovare un'altra posizione. Vabbè. Entriamo e vediamo se è parte. E questo com'è figo? In che com'è figo? Io ieri non li so guidare molto bene, quindi... Non sono molto pratico. Però, ve lo farò vedere che parte. Anzi, sono bravo, dai. Sono i movimenti degli aerei, perché sono un po' difficili scoprire i movimenti degli aerei. Non è una cazzata da guidare. Una figata, no, ragazzi? Va molto veloce. Finchia, com'è figo. Questa mano la devo tenere. Adesso andiamo alla base. Voglio andare... Alla base, alla base. Fare una parcheggiatura proprio... Ecco qua. L'ho tolto l'aereo, perché... Ho parcheggiato proprio di merda, lo so. Perché non lo so guidare tanto bene l'aereo. Vabbè ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, commentate. Se avete alcuni problemi, ditemeli. E... Ecco qua, ragazzi. Avete visto che non era presa per il culo, che funziona molto le mod, eccetera. Vabbè ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi, sono Game42, vi saluto.